Ciao Pietro! Mi trovo come benzai nella tua casa vacanze, Bismantova. Ti devo dire che è davvero una bella struttura. Ne ho girate diverse, ma questa di qua la sto trovando molto carina. La cosa che più mi piace, a parte il discorso cucina e tutte le altre cose che ci sono, è praticamente per come è arredata. Cioè, nei pieni dettagli c'è pure il tostapane, ragazzi, guardate qua. C'è il tostapane, c'è la spira briciole, ed è davvero bellina. Anche a livello di posate e cose varie c'è un po' di tutto. Guardate qui quant'è ce n'è. Vi posso assicurare che solitamente dove andate, andate, ragazzi, trovate un cucchiaio, una forchetta. Ne ho girate diversi, ma sono davvero combinati così. Guardate, la cucina è nuova. Proprio la cucina è nuova. E poi tutti i bei disegni che ci sono praticamente attaccati anche alle pareti. Cioè è arredata, davvero carina. Guardate, guardate, guardate che bello è questa. Magari non vi faccio vedere la mia camera, perché è un pochettino disordinata, quindi è meglio di no. Però vi faccio vedere anche il bagno. E c'è pure la lavatrice. Ragazzi, complimenti, signor Pietro. Ci sentiamo presto. Ciao! Ciao!